ciao a tutti oggi prepareremo insieme dei biscotti ripieni di marmellata integrali gli ingredienti che vi occorreranno saranno fecola di patate zucchero di canna scorza di limone lievito farina integrale l'uovo l'olio il pizzico di sale e latte prima di tutto mettiamo tutto lo zucchero e limone azionato bimbi 10 secondi velocità 10 unire farina fecola vaniglia che non vi ho elencato l'uovo il lievito l'olio latte e pizzico di sale sono del bimbi 2 minuti velocità combattatela con le mani trasferitela nel piano da lavoro la stendiamo e poi con l'aiuto di un tagliapasta create dei dischetti questi dischetti poi li farcite con un cucchiaino di confettura marmellata a piacere con zucchero senza zucchero come volete voi così chiudete e adagiate in una teglia foderata da carta forno li inforniamo a 180 gradi forno caldo statico per 15 20 minuti musica 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 musica